Senza ragazzi non è un'università, insomma non possiamo definirla così. Oggi devo dire che sono un po' emozionato. Sono emozionato perché ieri abbiamo di fatto concluso la campagna vaccinale per l'università. Siamo riusciti a vaccinare circa il 90% della comunità, direi. Escluso i colleghi con più di 65 anni e con alcune patologie, però conto entro metà marzo di includere anche loro. Adesso iniziamo, non la battaglia, però insomma cerchiamo di far vaccinare i ragazzi perché questo è lo step successivo. Quindi le lezioni possono andare avanti in tranquillità e in sicurezza solo se i ragazzi nell'arco di pochi mesi si possono vaccinare. Solo così l'università potrà ripartire veramente in sicurezza. Incrociando lo sguardo dei ragazzi che veramente non vedevano l'ora di tornare sui banchi. Questa settimana iniziamo con la facoltà di bioscienze, quindi una facoltà scientifica in cui l'esigenza di stare in aula e in laboratorio è ancora più forte. La settimana prossima inizieremo con scienze della comunicazione, scienze politiche e giurisprudenza. Sperando che la situazione sia tale da non dover chiudere di nuovo, perché questa sarebbe anche a livello psicologico una batossa. Noi ce la mettiamo veramente tutta, ormai a livello di sicurezza, a livello di protocolli, insomma pensiamo di essere veramente all'avanguardia. Però ovviamente la sicurezza totale non esiste, non esiste il rischio zero, quindi dobbiamo monitorare. Adesso con i nuovi programmi sappiamo chi c'è in ogni singola aula, per quanto tempo rimane. Così anche la prenotazione per la mensa, quindi il monitoraggio è completo. Il 15 faremo un nuovo screening di tamponi, proprio per migliorare il monitoraggio. Speriamo bene. Volontà, impegno, lavoro, lavoro, lavoro.